Sopra ogni tavolo c'è l'agenzia delle c***e, una cosa. Tento di dare due numeri, minimi, centomila o un milione cash. Tre numeri, scrivete tre numeri, non ve li chiedo, però scrivete tre numeri. Primo numero, semplice, da quanti anni lavorate? Il secondo numero, un po' più difficile, in questi anni, oggi, oggi, qual è il vostro patrimonio personale tra cash, immobili e azioni? Un numero largo circa, scrivete, non ve lo guarda nessuno, non lo chiedo. Sopra ogni tavolo c'è l'agenzia delle c***e, una cosa. Dai, dai, che scherzo, che c***o, dai, scrivete quel numero lì. Terzo numero che scrivete, il vostro guadagno lordo anno di oggi. Cosa rappresentano questi tre numeri qua? Una cosa, sono la sintesi del risultato ad oggi.